Ragazzi, finalmente a Bemus Iconé. Il calciatore francese è atterrato stamattina alle 10 a Peritola, ha già svolto le visite mediche, sarà di ritorno in Francia per le vacanze di Natale e già dal 29 sarà integrabile nel gruppo d'italiano per iniziare la preparazione per il girone di ritorno. Non potrà essere ufficializzato fino ai primi di gennaio, quando inizierà, si apriranno le porte del calcio mercato invernale, ma oramai è veramente questione di formalità. Arriva dal LOSC Lille per 14 milioni più 1 di bonus e il 15% sulla futura rivendita che andrà ai francesi. Il giocatore nasce a Bondi, ha vissuto praticamente tutta l'infanzia al fianco di un altro calciatore abbastanza forte, non so se non avete mai sentito questo Mbappé, insomma un giocatore abbastanza forte, con cui è cresciuto, è molto amico, ci ha giocato nelle giovanili e poi è stato preso dal PSG dove ha debuttato e ironicamente ha debuttato prima in Champions League e poi in Ligan nel calcio dei grandi, nel calcio che conta. Quindi già da qui si capisce che è uno dei calciatori che ha già calcato palcoscenici, insomma un pochino importanti, per non parlare poi del suo parmarès che andremo a sviscerare più tardi. Allora partiamo dalle cifre statistiche dell'anno scorso. L'anno scorso ha giocato circa 2600 minuti, 38 partite, totalizzando 7 gol e 7 assist. Naturalmente uno che vede questo tabellino per un'ala destra, titolare di una squadra che ha vinto il campionato, dice vabbè forse magari un pochino di più, ma bisogna sapere, se non avete visto il video ve lo lascio qui sotto il link in descrizione, che nelle skills, nei goals and skills di Jonathan Iconeri rientra soprattutto il saltare uomo e creare superiorità numerica per liberare una marcatura da Vlaovic. E' questo il discorso, ecco, lui diciamo è uno di quelli che fa saltare un po' il banco, che riesce a saltare l'uomo, a tentare ogni tanto la conclusione. Ecco, non è un cacciatore che cerca il tiro a tutti i costi, ma che comunque crea molto scompiglio su quella fascia destra. Ecco, partiamo anche da questo particolare, dopo aver visto le statistiche, quest'anno 18 presenze, un gol e 3 assist tra l'altro, tra parentesi. Lui è un'ala destra di ruolo, quindi nelle gerarchie andrebbe a togliere il posto a José María Caillón, quindi dovendo per forza a quel punto schierare, Nico Gonzalez a sinistra. L'idea non mi fa impazzire, però visto anche le ultime sue prove sulla destra, tolta quella di Bologna, magari schierarla a sinistra può dargli un po' di nuova linfa, ecco, un po' a revitalizzare questo calciatore che è anche stanco, a cui, tra parentesi, Nico Gonzalez e spero vengano dati anche meno compiti difensivi per concentrarsi di più sulla fase offensiva, e quindi andrebbe a completare il tridente con Vlaovic punta, Nico a sinistra e Icone a destra. Il contro, l'unica cosa che mi ha sempre, e l'ho citato più volte nel video, reso scettico riguardo all'acquisto suo o di Berardi, è che comunque sarebbe entrato in squadra un altro mancino. Vediamo come l'italiano riuscirà a gestire questa cosa, ne aveva già parlato nella post conferenza stampa di Ella Severana Fiorentina di ieri, perché comunque è una cosa che può creare imprevedibilità, perché se Icone è uno che ha come qualità quella di scattare sulla fascia, di librare tutti e di accentrarsi, Nico Gonzalez non potrà fare la stessa cosa, essendo il suo piede di riferimento il sinistro, quindi creeremo da una parte l'imprevedibilità saltando l'uomo, e dall'altra l'uomo che va fino in fondo per crossare. Quindi due tipi di movimenti completamente diversi per liberare Vlaovic o per liberare loro stessi al tiro. Nel suo palmarès cosa figura? Figura una Ligue 1 vinta con il Lille l'anno scorso da protagonista, con 7 gol e 7 assist come avevo detto, due supercoppe francesi, una col PSG e l'altra con il Lille, una Coppa di Lega e un campionato europeo Under 17 che è stato il suo primo trofeo. È un calciatore molto eclettico, molto follettino, una di quelli che si diverte a scartare l'avversario, mi ricorderebbe per certi versi, in scala naturalmente minore, un Salah, naturalmente con meno tiro e con meno propensione al gol, ma a livello di saltare l'uomo, ecco, non siamo tanto distanti. A questo punto, vedendo i discorsi della titolarità che facevo prima, dalla panchina noi possiamo andare a pescare comunque dei pezzi abbastanza importanti. Rimangono in panchina comunque un Sottil, rimangono in panchina un Saponara, rimangono in panchina un Kayakon. Insomma, riusciamo a creare così un po' di imprevedibilità in più sul discorso della catena parte offensiva naturalmente. Ricordiamo lo stesso discorso che ripeto da quando è arrivato Italiano, per lui le fasce sono estremamente importanti e quindi aggiungere un giocatore che può essere utile alla causa della Fiorentina, a parer mio, non farà mai male. Ci sarà da supportarlo. C'è scetticismo naturalmente sul fatto che questo si era conquistato, tra l'altro una prestazione da MVP, gli ottavi di finale con il Lille e si è voluto venire a Firenze. Vediamo cosa c'è sotto. Ciò detto ragazzi, vi faccio tutti gli auguri di Buon Natale, ci rivediamo il giorno dopo il 25 o anche magari il 27 per fare il pagellone invernale della Fiorentina, della prima metà di stagione. Probabilmente sarò in compagnia anche di altri due ospiti. Uno, ve lo spoilerò già e lo ringrazio per alcuni dati che mi sono stati dati per questo video. Niccolò Masini, scrive tra l'altro per Viola Press, mi raccomando seguite la sua penna anche su quella testata giornalistica. E detto questo ragazzi, sempre sempre, forza Viola, ciao!